Le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte da Genova. E' proprio da questo cantiere, eravamo qui vicino, dissi che Genova è il simbolo della volontà di rinascita. Questa rinascita si sta concretizzando, la possiamo vedere con gli occhi, la possiamo toccare con mano. E' una rinascita che nasce da una collaborazione operosa tra il pubblico e il privato, una collaborazione sinergica. In un paese vecchio non ci sono dei bambini, tu non vedi le carrozzine dei bambini sulla strada, non vedi le donne incinte. E' un bambino meglio di noi. Quando tu leggi che in quel paese sono più i pensionati che i lavoratori, è tragico. E quanti paesi oggi incominciano a vivere questo inverno demografico? E poi, quando si rossurano i vecchi, si perde, diciamola senza vergogna, la tradizione. La tradizione che non è un museo di cose vecchie, è la guaranzia del futuro. E' stata ideata una nuova analisi del sangue che permetterebbe di individuare l'eventuale presenza di ben 20 tipi di cancro. La nuova procedura, realizzata al Dana-Faberi Institute di Boston, Harvard, ha dato ottimi risultati nei primi test. Nel 99,6% dei casi, infatti, gli esami sono riusciti ad individuare correttamente alcuni indicatori presenti nel sangue dei pazienti malati ed ad identificare l'organo origine del cancro. Il metodo è stato sperimentato su 3600 pazienti, alcuni malati, altri no. Tra i tipi di tumore correttamente identificati, quello al seno, alle ovaie, dell'esofago della testa e della cissifella, oltre ai casi di mieloma multiplo e leucemia. L'autunno sta arrivando. Da mercoledì, previsto un brusco calo delle temperature fino a 8 gradi a seguito di una perturbazione atlantica che entro giovedì attraverserà l'Italia da nord a sud. Il maltempo inizierà ad abbattersi sul settentrione con rovesce temporali su Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna e Liguria, dove a Levante si teme per possibili nubi fragi. La perturbazione si sposterà poi al centro, con possibili grandinate su Toscana, Umbria e Lazio, e temporali sulla Sardegna. Al sud il maltempo è atteso per giovedì, con piogge e temporali sparsi. Grazie.